Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo questa edizione del giornale con la cronaca Dopo il fatto cruento di ieri, la rapina in villa, lo ricordiamo, in località Campodoro Arriva anche la solidarietà personale da parte del presidente della provincia Bui E quella dell'amministrazione provinciale, proprio nei confronti di Erardo Garro Ex sindaco di Campodoro, nonché ex assessore provinciale Che con l'ex moglie, la signora Giuseppina Zoppelletto Aveva subito una grave aggressione nella propria abitazione Sono atti di violenza che sconvolgono tutta la comunità per l'efferatezza del gesto, dice Bui Compiuto senza scrupoli, tanto più in un territorio dove finora non erano mai accaduti episodi simili A Erardo Garro e alla signora Augro, dice sempre il presidente della provincia Una pronta ripresa sapendo di poter contare sul sostegno e l'assoluta vicinanza dell'intera comunità provinciale Dovranno scontare complessivamente 13 anni e 3 mesi Samir, Jamel e Mohamed Arfa I tre fratelli tunisini responsabili di un accoltellamento ai danni del 29enne Ali Kerfani E della rapina di due amiche moldave di quest'ultimo Avvenute nel locale della movida padovana Villa Italia di Ponte di Brenta La condanna al termine del rito abbreviato è diventata effettiva Ed è stata notificata dai carabinieri ai tre che si trovavano già agli arresti domiciliari La pena più pesante ha colpito il più giovane, il 25enne Mohamed Che sconterà 4 anni e mezzo Ancora una errata manovra e il tram è uscito dai binari all'altezza della fermata della stazione ferroviaria di Padova Andrea Aragona, presidente di Busitalia, ha spiegato quanto accaduto a causa di una errata manovra del deviatoio Da parte del personale di servizio L'operatore presente a terra è incaricato di manovrare il deviatoio per consentire l'ingresso del tram in fermata Dopo l'uscita del tram precedente Il compito del conducente a bordo del mezzo è sempre quello di verificare visivamente la corretta posizione dello scambio E l'errata manovra sul deviatoio da parte del tecnico e la mancata verifica visiva da parte del conducente Hanno provocato l'incaglio del veicolo Il mezzo lo stava procedendo a passo duomo e quindi non vi è stato comunque nessun rischio per i passeggeri Intanto anche oggi per chi usa abitualmente il tram per andare e tornare dall'Arcella Ha dovuto ricorrere a quelli che sono gli autobus sostitutivi a causa di alcuni lavori in corso lungo le rotaie del tram Un ciclista è morto questa mattina precipitando con la sua mountain bike in un canalone nella zona di Vielle del Pan In Trentino a dare l'allarme è stato un gruppo di ciclisti austriaci con il quale si trovava appunto la vittima Percorrendo in mountain bike il sentiero 601, l'uomo, 53 anni, di Vilac, ha perso il controllo della bici Dopo un volo nel vuoto per una cinquantina di metri è ruzzolato per altri 150 La salma è stata trasportata ora nella camera mortuaria di Alba di Canassei Iesolo dice stop alla vendita, detenzione e consumo di alcol nei fine settimana dal 27 luglio fino a 14 settembre per il ponte di Ferragosto Il sindaco della città Valerio Zoggia ha emesso un'ordinanza che avrà efficacia dalle ore 20 del sabato e fino alle 6 del giorno dopo In questo periodo e nelle fasce orarie indicate sarà quindi vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e in lattina Effettuata anche attraverso distributori automatici Sarà lecita soltanto la vendita per asporto di bevande alcoliche per uso domestico con la prescrizione che i contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri Sempre nella zona del Lido, a Renile compreso, c'è anche il divieto di detenzione di qualsiasi contenitore e consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione sul suolo pubblico Tranne il consumo fatto nei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e nelle aree di pertinenza dei locali stessi La violazione prevede, attenzione, una multa di 200 euro La Regione del Veneto ha convocato un gruppo di lavoro al fine di procedere rapidamente con la messa in campo delle attività operative legate alla management delle colline del Prosecco di Conegliano e di Valdobiadene Recentemente riconosciuto patrimonio dell'umanità dell'UNESCO Tra gli argomenti che il gruppo di lavoro ha identificato, avere maggiore urgenza, la necessità di costituire in oggetto giuridico al quale sarà consegnata l'eredità dell'associazione temporanea di scopo con il compito di accompagnare lo sviluppo del sito quale organismo garante del mantenimento dei parametri fissati dall'UNESCO I 190 km2 di territorio compreso tra Conegliano e Valdobiadene saranno quindi affidati ad una associazione costituita ad hoc e finalizzata a curare gli aspetti di natura gestionale come previsto dalla legge regionale numero 45 del dicembre 2017 Nel breve termine saranno dunque rese disponibili opportune linee e guida indispensabili a recepire e condividere iniziative e obiettivi vision e mission ovviamente del sito UNESCO Il commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza a quelli che sono stati gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione del Veneto nell'ottobre del 2018 Luca Zaia comunica che alla scadenza dei bandi chiusi il 19 luglio scorso emerge che i privati e le imprese che hanno presentato domande di rimborso per i danni subiti sono circa 930 per un totale complessivo di 90 milioni di euro cifra ben superiore rispetto a quanto previsto inizialmente Il commissario aveva infatti messo a disposizione 25 milioni di euro Il resto della cifra necessaria a raggiungere i 90 milioni necessari sarà recuperato quindi grazie ai ribassi d'asta relativi ad una serie di opere di ripristino post emergenza Si precisa che le domande relative perizie asseverate potranno pervenire secondo modalità indicate nei bandi entro il termine ultimo del 30 settembre prossimo L'Assemblea dei Soci del Teatro Stabile del Veneto che si è riunita oggi a Venezia provando le variazioni di bilancio preventivo 2019 ha confermato la presenza del comune di Treviso nell'associazione del Teatro Stabile È il raggiungimento di un grande risultato, commenta così l'assessore alla cultura della regione del Veneto Cristiano Corazzari che premia chi ha sempre creduto in una grande istituzione teatrale per l'intera regione e che inaugura una nuova ed esaltante stagione di promozione culturale nei nostri territori Queste istituzioni svolge un'intensa attività in tutta la regione ed è uno dei capisaldi rinunciabili della programmazione teatrale di rassegne di spettacolo e di cultura in Veneto di cui anche Treviso e i Treligiani d'ora in poi potranno godere La legge regionale impone un nuovo calcolo dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per gli inquilini dell'Ater e la normativa a cui si devono molti calcoli degli affitti di tutte le case Ater del Veneto Molti cittadini hanno quindi ricevuto in questi giorni una lettera da Ater che illustra questa modifica Inutile dire che si è scatenato il panico soprattutto perché la maggior parte di questi sono anziani o addirittura molto anziani Il sindaco di Padova Sergio Giordani e l'assessore al sociale Marta Nalin hanno spiegato l'iniziativa che ha messo in campo il comune di Padova Circa l'87% dei casi che si sono visti alzare l'affitto di questi 83% sono over 60% e il 54% di persone molto anziane Vediamo Una situazione preoccupante per gli abitanti di Padova Più o meno c'è un euro doppio delle case da parte dell'Ater, da parte della regione Di conseguenza c'è una forte preoccupazione sociale da parte nostra sia per gli anziani Sono quasi tutti italiani a parte il 10% perché non voglio strumentalizzare le solite cose che vengono fatte dall'opposizione Sono quasi tutti italiani, molti anziani, 60-70 anni Abbiamo stanziato 200 mila euro nei prossimi 12 mesi per dare una mano a questi Non sono contributi a pioggia, valuteremo con buon senso come dare una mano Ma c'è forte preoccupazione di quello che può succedere Circa il 54% sono persone che hanno più di 70 anni e l'83% hanno più di 60 anni Questo è un altro dato che va assolutamente considerato Sono tante le persone che sono arrivate ai nostri uffici da quando hanno ricevuto la lettera Le preoccupazioni più grandi sono quelle relative alla difficoltà di pagare, di sostenere un canone Che in alcuni casi è anche raddoppiato E la difficoltà anche di persone che secondo il calcolo dei nuovi requisiti Si trovano ad avere un ISE troppo alto per poter mantenere la propria casa Pensare a una persona anziana che ha vissuto in una casa popolare per tantissimi anni Forse alle volte veramente da quando era piccola Dover uscire dalla casa, quindi cambiare casa, che significa fare il trasloco Cercare una casa nel mercato privato Questo rende tutto molto difficile Tra l'altro usciti dai requisiti per cifre veramente basse Quindi con poca capacità di spesa reale L'attenzione dei servizi sociali è quella che si mette sempre quando le persone arrivano a chiedere una mano E i requisiti sui criteri sono gli stessi Quindi sarà necessaria un'attenta valutazione dei bisogni e delle situazioni Per poter rispondere a bisogni reali Tra le varie preoccupazioni ricordiamo che c'è la preoccupazione che crescano i casi di morosità Visto che c'è l'effettiva possibilità che si verifichino situazioni di questo tipo E quindi rischio anche di sfratto Era da più di dieci anni che non si vedeva una mobilitazione simile nel settore dei trasporti Vogliono far sentire la propria voce, le sigle ai sindacali Filt CGL, Filt CISL e Will Trasporti Che hanno proclamato per domani, 24 luglio Una prima giornata di sciopero per chiedere nuovi investimenti nel settore Il ministro Toninelli ha invocato il rinvio Ma dai sindacati è arrivato un secco no Saranno chiamati a scioperare quindi migliaia di lavoratori Soltanto in Veneto, 150.000 Quelli impiegati nelle diverse professioni afferenti al mondo dei trasporti Lo sciopero riguarderà sia il settore pubblico che quello privato I treni si fermeranno dalle ore 9 alle ore 17 Con le fasce minime garantite Ma con lo stop alternato per tutto il giorno In base ai turni per il personale degli impianti Bus Italia vedrà i suoi dipendenti fermarsi dalle ore 18 alle ore 22 Per i servizi di autobus e tram Sia per l'urbano che per l'extraurbano Nel trasporto privato e nella logistica Gli autisti sciopereranno invece per l'interno turno A rotazione sulle 24 ore Il personale amministrativo e magazzino Per le ultime 4 ore dalla prestazione Sciopereranno anche ANAS, Veneto, strade, autoscuole, taxi, servizi di autonoleggio e soccorso stradale Stesso discorso vale anche per i servizi portuali e marittimi Oltre che per il comparto aereo Che sciopererà però nella giornata di venerdì I sindacati saranno in strada a partire dalle ore 7 Con l'assemblamento davanti all'interporto di Padova Che vedrà i loro rappresentanti incontrare il presidente di Interporto Sergio Gelain A seguire i manifestanti Arriveranno poi in piazza Santo Stefano Per incontrare il prefetto Franceschelli Con una delegazione di lavoratori Dal 1 ottobre fino al 31 marzo Blocchi alle auto omologati in buona parte della provincia di Padova Infatti è stato approvato il documento condiviso con i comuni della cintura urbana Per il contrasto all'inquinamento atmosferico Alla riunione del tavolo tecnico In provincia erano presenti i comuni di Albignaseco, Cadoneghe, Casasserugo, Legnaro, Limena, Maserà, Mestrino, Noventa, Padovana, Padova, Ponte Sanicolò, Rubano, Saunara, Selvazzano, Vigo d'Arzare, Vigonza e Villa Franca Padovana Oltre ai rappresentanti dell'ARPAV e dell'ULS 6 Euganea Nonché delle municipalità di Piove di Sacco, Monserice, Este e Cittadella Che da anni vengono invitati a partecipare come riferimento di area Mentre negli anni scorsi era difficoltoso per i cittadini muoversi e rispettare le diverse ordinanze comunali Ora sarà più facile spostarsi senza incorrere in violazioni Le misure oltre alle limitazioni di traffico riguarderanno principalmente il divieto di sosta per i veicoli con i motori accesi La combustione all'aperto del materiale vegetale Lo spargimento di liquami Il divieto di utilizzo di generatori di calore a biomassa legnosa L'obbligo di utilizzo di pellet certificato E le limitazioni della temperatura media nelle abitazioni Proseguono come da crono programma invece stabilito con il MIT i cantieri del Mose E i test sulle varie paratoie Tutte alloggiate nei cassoni delle bocche di porto della laguna di Venezia Fino a giovedì 25 luglio saranno testate le 18 paratoie della bocca di porto di Chioggia Collocate ad una profondità di 12 metri E dal peso di circa 300 tonnellate l'una Larghe 20 metri, lunghe 27,25 e spesse ben 5 metri Le dighe mobili saranno sollevate a gruppi di 5 fino a giovedì Mentre il 5 e 6 agosto verrà sollevata a metà barriera al giorno Per permettere la navigazione durante il test Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale Come sempre vi diamo appuntamento alle prossime edizioni Non prima però di avervi ricordato il nostro sito www.cafettv24.it Per rimanere costantemente aggiornati